Alessio Pirosso, Varese vince gara 3, però la parola d'ordine adesso è calma? Sicuramente, dobbiamo stare con la testa concentrati, già con la testa sabato, non abbiamo vinto niente ancora, neanche loro, quindi testa sabato e lavorare. Per certi versi la partita di stasera ha ricalcato un po' le due precedenti, con Feltre che l'ha ribaltata 2-1, poi cos'è successo? Poi basta tenere la concentrazione, le occasioni arrivano, bisogna crearle, sono arrivate e le abbiamo sfruttate. Sotto 2-1, sul 2-2, sul 3-2 anche alla fine c'è stato un pubblico clamoroso, l'avete sentito dalla pista? Ti dico, magari in panchina qualcosa puoi sentire, ma quando sei sul ghiaccio alla fine giustamente non senti più di tanto, però comunque il calore ti arriva e aiuta sicuramente di dare una spinta in più. Sabato sera che gara bisogna aspettarsi, una vera e propria battaglia, adesso loro derà un po' questa sconfitta, a noi ci ha gasato questa vittoria e dobbiamo portare tutta questa convinzione che possiamo e siamo in grado di farlo a sabato.